Amici bentornati all'appuntamento consueto con Italmotor, anche oggi bollono in pentola tantissime novità, vero Massimiliano come stai? Tutto bene, ciao Cesare, un benvenuto a tutti voi. Ricordiamo gli indirizzi importantissimi? Via Stradella 82 e Via Cardinal Masaia numero 5. Due indirizzi importanti da ricordare perché? Perché in questo momento ci sono da fare degli affari incredibili. Hai detto proprio bene, affari incredibili su vetture, nuove vetture d'occasione, vetture chilometri zero con sconti pazzeschi fino al 50%. Allora via, partiamo subito. E cominciamo subito con una Lancia Ypsilon 1200 allestimento Gold, 5 porte ovviamente, del 2012 pochissimi chilometri percorsi, la porterete via solo 8.900 euro. Un'autovettura corredata di climatizzatore, di ABS, 4 airbag, servo sterzo, radio CD con MP3, 8.900 euro. Panda 1300 Multijet allestimento Easy, chilometri zero con climatizzatore, radio CD MP3, 4 airbag, ABS, servo sterzo, telecomando, apertura, chiusura, porte, barre, porta, tutto, un chilometri zero. Vi dicevo che lo porterete via soli 10.800 euro con uno sconto del 33% dal listino. Fiat 500 L13 Multijet, 85 cavalli, Panoramic Edition, tetto in vetro, climatizzatore, cerchi in lega da 17, sensori, parcheggio, fendi nebbia e tantissimi altri accessori con uno sconto che supera il 30% dal listino. La porterete via a partire da soli 16.900 euro. 500 cabrio Abarth, 1.4 turbo, 140 cavalli, cambio competizione Abarth, la porterete via a soli 17.900 euro, un'autovettura completa di cerchi in lega 17, sensori, parcheggio, interno in pelle, climatizzatore automatico. Avete capito bene, 17.900 euro per un'autovettura immatricolata nel 2012. Lancia Delta 1.6 Multijet, 120 cavalli, allestimento Gold del 2011, pochissimi chilometri percorsi a soli 13.900 euro. E a Little Motor sono già arrivate, parliamo delle nuove Panda 1.3 Multijet 4x4 con pochissimi chilometri, immatricolate nel 2012, garanzia ufficiale Fiat a soli 13.900 euro. Alfa Romeo Giulietta, 1.4 turbo, 120 cavalli, progression, pochissimi chilometri percorsi, solamente 4.000, immatricolata nel 2012, adattissima ad un impianto GPL, la porterete via a soli 13.500 euro. Fiat Bravo 1.6 Multijet, 120 cavalli, allestimento Emotion con cerchi in lega da 17, climatizzatore automatico bizona, sensori, parcheggio, fendinebbia, radio CD, MP3, comandi al volante, porta USB del 2012, pochissimi i chilometri percorsi, sarà vostra a soli 11.900 euro. Solamente 12.000 i chilometri percorsi da questa Lancia Musa, 1.4 Eco Chic, che vuol dire vettura benzina e GPL, solamente 12.000 i chilometri percorsi e naturalmente climatizzatore automatico bizona, radio CD, MP3, comandi al volante, porta USB anche in questo caso e cerchi in lega, fendinebbia, full optional, la porterete via a soli 11.900 euro. Tantissime le Alfa Romeo Giulietta presenti qui in via Stradella 82 a Little Motor, un in particolare un 140 cavalli, 2.000 Multijet, immatricolato nel 2012, quindi garanzia ufficiale Alfa Romeo, la porterete via a soli 14.900 euro. Fiat Chroma 1.9 Multijet, 150 cavalli, allestimento Dynamic con cambio automatico, immatricolata nel 2007, cerchi in lega da 17, climatizzatore automatico bizona, ABS, 7 airbag, radio CD ed MP3, la porterete via a soli 7.900 euro. E a Little Motor sono presenti anche i veicoli commerciali, un in particolare un Fiorino 1.3 Multijet con climatizzatore, immatricolato nel 2009, a soli 5.300 euro più IVA. Fiat Cubo 1.3 Multijet, 75 cavalli, allestimento Dynamic, solamente 14.000 i chilometri percorsi, immatricolato nel 2012, full optional, lo porterete via a soli 12.500 euro. E non mancano le Fiat 500 aziendali, chilometri zero d'occasione qui in Italmotor, in via Stradella 82, in diversi colori, diversi allestimenti, diverse motorizzazioni, a partire da soli 8.600 euro. Nuova Panda 1.2 Allestimento Lounge del 2012 e con soli 1.840 chilometri, solamente 1.840 chilometri, praticamente un chilometri zero, che porterete via a soli 8.500 euro. Fiat Ulisse 2.0 Multijet, 120 cavalli, allestimento Dynamic, solamente 44.000 i chilometri percorsi, lo porterete via a soli 10.900 euro. Panda 1.2 Natural Power, che vuol dire benzina più metano, qui a Little Motor le troverete, vetture con pochissimi chilometri, a partire da soli 6.500 euro. Grande punto, chilometri zero, 1.2 5 porte con climatizzatore, a partire da soli 7.990 euro. Avete capito bene? A partire da soli 7.990 euro, grande punto, chilometri zero, 1.2 5 porte con climatizzatore. Climatizzatore. 500L, 1.4 16 valvole, Euro 5, Popstar all'allestimento con climatizzatore, ABS, 4 airbag, radio CD, cerchi in lega, la porta rete via del 2012 con pochissimi chilometri a soli 14.500 euro. E che per oggi, amici, il tempo si è esaurito, però ricordiamo ancora gli indirizzi Ital Motor. Via Stradella 82, via Cardinal Massaia numero 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Grazie Massimiliano, buon lavoro lì nella regia.